Oggi quando sto registrando questo video è il 2 giugno e ieri sono entrato in live come molti sanno e come molti appunto hanno notato appunto dalla live di Blaster almeno e ci tenevo a dire la mia perché comunque sono stato parte integrante della live soprattutto con due fasi che ora vi mostro che forse è meglio parlarne prima e poi parlare un po' seriamente dopo un attimo posso interrompermi un attimo? grazie e praticamente sto prendendo la live di fake e ha appena messo l'amour toujours in realtà è l'urlo di un muriere tutti con l'hasta che è ma pa da pa 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 no raga allora nella mia live praticamente è successo questo perché io sono sempre mutato per non disturbarvi mentre voi parlate quindi in chat si sono immaginati che perché io nel frattempo invece parlavo con loro in chat si sono immaginati voi che litigavate vi ammazzavate e io che ero in mezzo tranquillo no? io ho una domanda soltanto generale nella vita bisogna completamente arrendersi ma nella vita quello che conta è la figa non lo so però alla fine tra undici civiltà io ho scelto Roma ma per me libero romano Diego volevo rispondere alla tua domanda secondo me arrendersi non è mai l'ha chiesto era di Bjorn era di Bjorn era mia la domanda ma che è? ma mi rubano pure i meme pure lo scam lo scam non è nella vita non è nella vita vedete che allora io nella vita dovevo completamente arrendermi dopo quello che ha detto ora cioè perché c***o io non l'ho fatto sì avete visto che comunque durante la live ho detto praticamente questo sì sono un po' idiota lo so e insomma voglio però parlare prima di questo è importante per me come mi si è fatto notare da freak in un certo senso e comunque sì c'è stata finalmente una discussione con i volti più importanti della community io non posso etichettarmi come tale perché comunque tra quelli sono il canale più piccolo, cioè noi siamo il canale più piccolo con, in questo momento ora controllo scusate un attimo 2174 iscritti allora, siamo il canale più piccolo c'erano blaster che aveva che ora ha 12.000 iscritti corner che ha 40.000 freak che ne ha 62.000 quindi non c'è capite che io ho parlato con dei colossi e mi dà comunque una leggera speranza questa parlata diciamolo nella giornata di ieri cioè del primo giugno c'è stato un casino globale riguardo la patch di Nazoom Laving Go Galaxy sapete una cosa io diciamo ho fatto i complimenti a Geniv a Geniv Forum facci i nomi perché comunque devo parlare ho fatto i complimenti a Geniv per quanto riguarda la pubblicazione della patch però notando il lavoro e notando comunque che hanno lavorato assolutamente un mese e mezzo giustamente io ho elencato i miei dubbi nella live al ragazzo che appunto ha pubblicato questa patch è una patch molto assente come ho detto e da quando è uscito quel Vilti Blaster che supportava il Geniv è successo un casino incredibile giustamente io come ho detto nelle chat Telegram ma ora voglio parlarne anche ora perché mi sembra una cosa importante da dire voglio schierarmi neutrale nel senso per voi sarò la Svizzera io stesso ho una collaborazione con Saro e Diego che dove io faccio la sponsor alla loro patch quando sarà il tempo di giocarla no e nei prossimi giorni nelle prossime settimane uscirà finalmente una serie gameplay riguardo Inazum Eleven che però porterò a modo mio la spoilerò soltanto per ora nelle prossime settimane però accadrà tra due settimane quindi vi spoilerò solo questo giustamente io per fare questa questa serie ci metterò un bel po' per arrivare a Galaxy quindi diciamo che potrei essere quello che arriva più in ritardo però ne parlerò perché comunque essendo sponsor sono diciamo impossibilità di parlarne però la patch che sarà pubblicata al Geniv nonostante gli errori hanno comunque pubblicato prima va bene ok però preferisco non schierarmi come ho detto prima perché comunque io faccio i complimenti a Geniv per aver fatto questo però ci sono le critiche ci sono le critiche per esempio io in live ho chiesto al ragazzo di spiegarmi perché comunque essendo una beta ci siano così tanti errori e comunque lui mi ha risposto e apprezzo però diciamo che si è creato un bel casino e io non ho voluto immischiarmi come ho detto a Blaster in un vocale sul suo gruppo di cui è Founder Etern che comunque è il mio collaboratore è un mio strettissimo amico ho detto guarda Blaster io vorrei non immischiarmi in questa faccenda perché comunque essendo il mio canale molto piccolo rispetto al vostro non voglio schierarmi da nessuna parte da qualsiasi parte io non voglio entrare in nessuna faccenda preferisco starne lontano perché ne vale della reputazione del mio canale io so che sembro un egoista so che sembro uno che pensa a se stesso in una situazione difficile però guardate me e guardate gli altri comunque sono il canale più piccolo sì Freak stesso mi ha conosciuto in quel momento Freak stesso infatti in live vedrete che comunque cerca il mio nome su youtube cerca di capire chi sono eccetera e mi fa molto piacere che Freak si sia interessato però come giusto che sia io mi sono schierato neutrale e comunque voglio dirvi solo una cosa la patch di Galaxy giustamente non la giocherò quella del Geniv perché ovviamente devo tenere conto della mia posizione come giusto che sia rispetto Saru rispetto il lavoro di Saru e di Diego quindi resterò fedele a loro però giustamente durante tutta la situazione non ho proferito parola e preferisco non preferirne alcuna perché voglio essere il più neutrole possibile e voglio che il mio canale non ne risenti capisco che alcuni diranno eh ma da che parte stai da che parte stai io tenendo conto delle mie facoltà tenendo conto di quello che ho detto resto nel mio diciamo la terza fazione sarà quella neutrale la Svizzera di turno e io voglio far parte di quella Svizzera perché non mi sembra giusto parlarne e non mi sembra giusto andare contro qualcuno eh semplicemente ho posto delle domande eh ho posto delle mie ehm diciamo ehm supposizioni ho proferito parola sui miei dubbi e insomma ho avuto risposta e in più ho fatto il meme che avete visto prima di cui ho praticamente ho praticamente avuto l'attenzione di break però va bene lasciamo stare ho visto anche il video di Corrad che è uscito poco fa e devo dire Corrad ha fatto un video proprio esaustivo e devo dirlo lui è l'emblema dell'imparzialità quindi posso solo che fagli i complimenti e quindi niente visto vista la faccenda che si è creata ribadisco il fatto che io voglio essere neutrale e pensare ai miei progetti e pensare a quello che ho alle mie affiliazioni ai miei sponsor eccetera eccetera nonostante siano pochi nonostante io non mostra non abbia tanto seguito rispetto a tutti gli altri ripeto io sono una formica e loro sono i pilastri e non voglio assolutamente creare polemica su questo anzi voglio solo fare i complimenti alla community per essersi riunita per una volta e aver parlato quindi niente ho solo detto la mia e mi fa piacere che la community sia riunita sì però è stata una riunione un po' grave cioè nel senso una riunione in un posto in una situazione molto brutta e mi dispiace di questo io volevo diciamo una riunione su un qualcosa di positivo e abbiamo ottenuto questo però è stato comunque bello avere un confronto con con me che sono piccolo o con gli altri che sono dei pilastri per esempio Blast in una zona corner Freak e beh menzione speciale io voglio fare i complimenti a Conrad per quello che ha detto nel suo video è stato il più parziale possibile è stato davvero è stato davvero bravo e come ho detto nel suo commento è un ragazzo che comunque è entrato è rientrato in punta di piedi tranquillo però lo ha fatto di fiamma e mi è piaciuto molto il suo video mi è piaciuto molto come trattare queste cose e voglio solo fare i complimenti a lui posso solo fare i complimenti quindi la mia posizione ora la sapete sulla cosa volevo parlarne in più tranquillo possibile volevo spomparmi un pochino perché comunque dopo la live sono cioè diciamo in tutta la situazione ho avuto degli attacchi di panico ho avuto un davvero un mal mentale incredibile ero stressato a mille ho quasi litigato con dei miei amici per tutta la situazione ero stanchissimo però finalmente posso dirlo per me la situazione è finita almeno dal mio lato con questo video quindi noi ci vediamo in un prossimo video ora sapete le mie supposizioni alla prossima da Bjorna grazie a tutti